Buonasera Bandecchi, lei è attualmente sindaco di Terni e ha minacciato di voler bruciare le scarpe di uno che si era solo pulito nella fontana. Io personalmente, se potessi agire come uomo, normale, gli spaccherei la testa nella fontana. Perché senza l'obbedienza non arrivi un cazzo nella vista. Perché se io arrivo e vedo una panchina pisciata, una panchina cacata, ma io te sfondo, ti spaccio... No, ma perché io sono sveglio, sono intelligente e sono cattivo. Io sono cattivo perché? Perché io voglio arrivare a Roma a fare il presidente del Consiglio e mi devono votare. Ma se quelli che mi votano mi fanno una panchina pisciata, una panchina cacata, io non li voglio i loro voti. Io guadagno 4 milioni all'anno. Sa quanto pago le tasse? 2 milioni. Allora non mi devi cagare il cazzo finanza come la Gestapo. Perché se io vedo la panchina pisciata e cacata, allora gli dico, spacco la testa a quella della panchina pisciata e cacata. Ma non voglio dire tutto nel promo. Perché c'è dell'altro. Perché io sono uno zerbino, ma non mi fate dire il tono nel promo. Qualcosa teniamocelo per la puntata sulla panchina pisciata e cacata. Certo, certo, va bene. Torna Fratelli di Crozza. Da venerdì 22 settembre alle 21.25 sul 9. E in streaming su Discovery+. E in streaming su Sony vediamo Pouche. Ma io mi piace sul piano. Ma io南